E' incredibile, bellissimo Ma che è una situazione un po'? Porca macca c'è un buco nel pavimento Sì adesso questo Finalmente ci sei caduto Bastardi Ho cercato anche di bucare qua, guarda Solo che c'erano due blocchi Sono due puntate, no, sono tre puntate che devi cadere 13, no, 12 o 13? No, questo bullico mi ha fatto, 13 13 Siamo a tre quarti Yes DNA, passo dopo passo Oddio, c'ho una spawner in patate Sì Di... Ci vado in avanti tra l'altro Ah che bello Oh guarda, mi sono questa la barba Oh mio Dio Guarda qui Eh, cosa c'è di strano? Sto volando Jack No Vieni qua, vieni qua, vieni qua Eh, Fido, vieni qua Parca Eh ma portami qua Fido Che non riesco a salire Vado, vado, andiamo Andiamo verso Fido Scusate Non ce lo sapete Ma puoi guidarlo o no? Eh? Puoi guidarlo o no? No Si è completamente in balia del... Vabbè allora Sì, non spesso c'è inutile Però non so dove andare Normale Ah c'è la zucca là Eh vedo zucchi ma non so se... Sono veri zucchi Oh ho visto forse Ho visto una scelta di zucca Io sono andato C'è un po' di zucca 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 Ancola qua Buona scelta la fine Perlomeno ho trovato il pulsante nero Poi Eh Quanto... Oddio Sta rampeggiando il mondo E non sto scherzando O è tutto buio Che pado Non so... Il vuoto è che non so quanto in basso posso cadere senza morire Eh... Non troppo ma abbastanza tanto Eh... Questi sui non uccide quindi adesso Appunto è vero Ma se quello è il punto Appunto è vero Ok Ah no niente un uccello C'è una barca C'è... Vabbè C'è una barca o un uccello Stessa cosa Posso navigarlo? No Carina il vuoto Più che altro Va bene il pulsante nero Ma il pulsante nero Puntra zucca Eccolo qua Trovo quello blu Ah Dove sei? E' quello nero? Eh Dove sono iniziato quello nero Non ve ne ho trovato nero però Neanche io vedo il tuo Ah si ti vedo Ah ho visto il tuo Ok Ah sono vicini? Si Abbastanza Qui c'è quello nero Non ve ne ho trovato nero E' stato in avanti? No Non so proprio quello di cercarlo E' enorme sto cosa Ah beh giusto Ah beh giusto Ahia Non ve ne ho trovato nero Non ve ne ho trovato nero Non ve ne ho trovato nero Eh Smog Che schifo Nella luce dei fari di un camion E la sporta le tappe Basta Anche in rima era Cos'è cos'è? Questa sensazione Mi sa che la cassa Non la troveremo mai Neanche se preghiamo in Bretone Mamma mia In rega dei rimi stasera Cassa? Si Sono molto lungo Tanto Sono mica poco un DNA Cioè Si ne Però No Se ogni dieci Colligamenti Fa un giro completo Su se stesso un DNA Eh ma Che mi dice che ha fatto I collegamenti giusti Con gli enzimi Eh? Dov'è la leggenda? Sì sicuramente Sì sicuramente Sì sicuramente Sò sbagliato Beh Ti ho detto io Non è un DNA È solo un clown Sì comunque andiamo a casa Siamo a casa Siamo a casa Ti suicido Ciao Dove è Roma? Oma Cioè dove sei Roma? Dove sono qua? Dove sono? Cioè dove sei lui? Giù Monti giù Monti giù Eh niente Ho visto il nostro Ti ho visto io L'ho visto? No scherzo Strano Depresso Cardi giù Entrivo da casa Ti aspetto là Ah sono ancora veloce 13 14 14 14 sia Oddio Minecraft è enorme Oh sì quanto è enorme Minecraft Cosa? Latte Latte? Oh mio dico Questa che non va Ma che è per ridurre l'altezza? Come se accende? Così Oh mio dico Quella è la macchina per ridurre l'altezza Ok Oddio Oddio Oh mio dico Che? Sono diventato una pulce Oh Ma solo per qualche secondo Sono anche veloce come lo schifo Non saltare così tanto Ma quindi si schiaccio anch'io la stessa cosa? L'alte piccolo è ultra veloce Oh mio E salti ultra in alto Eeeh Sera bene Sera fin Sì però Ehm Ah 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 Ehm Cos'è un tigigante Un po' di Della lava Ehm È possibile chiedere il scalo? Sì Sì Ma come sono morto? Sì Non fa chiedere un'ultima Un milione di un cazzo Non è che stai voluto Correre così veloce Nel Sì Nell'altro mondo Diciamo Eh che sono Sì Quando diventi grande Merda Eh no sono ancora qua Buono Perfetto Allora Vediamo qua Ma di solito non bisogna buttarsi da qualche parte Eh non so Sono le dimensioni normali La porta è chiusa Non fa aprire la porta Ah c'è la zucca qua Ma scusami eh Ah perché è lo stesso posto Sì Ah 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 No 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 ti dice Per cercare meglio Torna le dimensioni normali Così Dov'è Cioè sicuramente dobbiamo usare il latte Vabbè cosa? No Senta facciamo così Oddio Sei caduto dall'altro In maniera sua avventura Io? Sei sotto terra adesso Comunque ascolta Eh Di caso ho capito Questa roba qua Ah sì Ah sì Se ci sia scendere Andiamo a andare da piccoli qua Sì Allora È impossibile entrare nel buco Quando sei straveroso Allora Allora Quello sei tu? Nella stanza iniziale Da piccolo o da grande? Piccolo Cazzo non sono fatto chiusa? Sì Mi passò dalla finestra Eh La finestra è chiusa No È finitamente chiusa Che finestra scusa? Quella a destra La finestra del Della finestra Non della finestra della porta Capisca Capisca Sì perché giusto Mentre non è molto Cioè Dai 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 Porca H è impossibile Devi fare due più avvi Su quest'altro lì E E No Guardate Facci si saltava un po' più Eh sì Grazie Un po' più In avanti In alto C'era meglio Ah ma non si diva neanche Per andare sulle zucca Niente Sì sì Tratti E No Non c'era mica niente qua No Approce Sì 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 Non c'è acqua Raggiungi il fondo Oh mio dio 2 di 6 2 di 6 Ah che ho visto E' oltre il Dove sei spawn Dove sei spawn Dove sei Ah sei sottoterra Buonissimo Eh vabbè Sì comunque lì lo steppano Oddio Ah ho capito Eh spostati in casa appena Eh vabbè Aspetta Non sono più veloce Voglio essere veloce Eh non può essere veloce Ok Aia Dopo Dietro Avanti Sinistra Sì Eh però Trovo poco Spazio No Quasi Oh no Quello è stato Da qui Da destra Che brutto Sar lento Ma se bevi un latte Vedete che succede Ah mi toglie tutti i buff Tutti I buff Tipo Eh mi sa che non so C'è oggi C'eri quasi Sì ma Che palle Che mi appassioni Questa qua Oh eccolo lì Ce la fa E due Io vi do Latte Beh bevimi Bevimi Vabbè Ci sono gli diamanti Vedete che andare Vabbè bere il latte No ci sono latte Almeno che ho visto Ma quindi come si fa? Dov'è il diamante? Dov'è? Quindi non c'è Vediamo Sì Siamo qua Torniamo al test iniziale Non so Rientriamo a guardare o Ma sì Ma lascia stare Tanto ne ho trovati un sacco Quindi Eee Quattordici No Quindici No Quindici No no Quanti sono veloci Hardware Non vedo Dove Il coso grande Il coso grande Cazzo Perfetto Sono morto Qua Dove vi cominciare Io sono Al primo Il primo Cos'è? Sei morto Minifera Perché sono morto? Cazzo Sono andato giro Ho fatto tranquillamente I miei 3-4 passi Stavo arrivando al bottone Sono morto Bello Mi la metto il mouse Ok Addio Non fammi andare subito Che sto Ancora cercando Perché mi la metto il mouse Non potevo fare roba Ci sono Ci sono Anch'io E andiamo Dove vai o perché hai evitato le robe? Io Sinistra No no Dipende Adesso Un posto Al centro c'è una specie di piscina Ah ok Non l'ho vista Anzi Il Di tutto il quadrato Rettangolo Cazzo che è È un po' più orso Sinistra Non l'ho vista Non l'ho vista Ah l'ho vista L'ho vista L'ho vista Adesso È così Ok Qui ci guarda un po' Ah Eccoli qua Sì sì Trovata Dove vai Andiamo giù E arrivo Ok Ma è impossibile andare qui con la piscina Cioè Devo Ah ma c'è andato giù cadendo Sì Pensavo che non ci sia andato su Dico ciao No è impossibile Devo andare oltre l'indice dal puntatore No più avanti più avanti più avanti No più indietro più indietro Se mi vedi ti faccio Se vai E sono passato Non so bene come orientarmi perché Comunque Vicino all'annulare È il mignolo del dito Vabbè anche qui Un pochino più in là Sì Vabbè anche qui Quando sei partito guardavi l'angolino no? Sì Adesso lo faccio anch'io Mi sono spostato un po' avanti Un po' adesso inizia Adesso vai a sinistra vai a sinistra Sinistra tutta Cazzo di poco Devo cominciare prima a muovermi Questa è fatta eh Sì Unica parola Se non sa fare adesso ti do la mano Ci sono Ma porca E sui mie Eccoli Taccate Ti ho aperto la piscina più Grande Eccolo Eccolo Vabbè forse c'è lo stesso Però Almeno c'è lo civile E niente Si torna Eccolo già Andavante No 16 16 16 Attenzione Se si muori Qui si avanti Siamo già alla fine Attenzione Mi sono già Moria O Moria No Moria Non lo so Non lo so Buono Mi sa che Io vorrei buttarmi giù Io ce l'ho butto No ce l'ho Ce l'ho Ce l'ho La mia tele Si Ah si Ma cazzo Non me l'ho presa io Eeeh Faccia di là Cosa mi dici Faccia 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 Si si Faccia di là Cosa sia Faccia Ah E' un cane di Moria Ovvio no Ah ok Ma poi c'è Tra con Moria O Moria Perché ti uccide Quindi è Moria Allora Giornale Tra l'ho un cane infernale Guarda Si Cioè Riesci a vediarlo Si non vedo le tante Però Buono Oddio C'era Oh mio Dio Cosa Ah Abbiamo attivato Dalla nostra velocità Un interruttore Però non so che facesse Ma è questo posto Si è spawn Si è settato Guarda con quello che va davanti Sono le zucche Che ricordano di andare giù Ma Ma si Guarda con quello Si è spawn Ok Ok Va davanti Ancora Niente Che bello Andiamo in giù Ehm No Ok I salti non mi fa Tu vai al primo o al secondo? Vai al secondo io Cioè Al primo Ma Ti vuoi buttare? Eh? Ti vuoi buttare? Certo Perché non c'è niente tutto Non ho visto che quello lì è un quadratino di Di acqua Perché se è un quadratino di acqua Mi mica Eh 16 Ah no ci sono le regnatele in fondo E sono anche un po' Quindi buono Ah si stanno allo stesso posto quindi Eh no perché ho sentato lo spawn lì Quindi Oddio Oh cazzo Cosa è successo? Eh Ha ti fatto ripartire Eh? Si E io sono uscito a arrivare quasi in fondo al secondo Ma Anch'io ma Perché se te lo spawn di là Tipo da quello lì No No Oh no Sono in giù Sono in giù Sì? Sono in giù Sono in giù Però non so se È una cosa buona o una cosa cattiva Buono Pazzo Cioè beh doveva essere una buona o una cosa buona Sì spero Il mondo è carico e ti voglio far vedere a tutti dove sono Ma Cristo Ma non è possibile che no Mi sento la tece con l'uomo Sì? Sì quindi non so Ah ho trovato la cesta Ah ok Domante Domante E Beh c'è quello nero ma non ha senso Questo è per tornare su per buttarti qua Sì può andare su Anche perché non c'è quello blu Ce l'ho qua io Ecco appunto Adesso sarà l'impresa di tornare su Ecco Eeeh Salto su una regnatelle Vieni Vieni Ehm è un po' difficile Ehm è un po' difficile Ehm è figa Ehm è figa Ehm Già una volta e due Due volte Se vuoi se no ti dite fuori via Ok stop Ho sentato lo spawn Ho sentato lo spawn eh Sì Buono Ehm è che ci ho fatto la prima volta Prima Ok Primo E il secondo Adesso basta qui Ok Eccoli Eccoli Penso Per farlo di avverti visto No No Sono tre Eh l'ultimo di ripetere in acqua Eh cazzo Eh È un po' dura Ma Cristo Ce l'ho fatto No No Eccoli Grande Olè Ah Madonna che grosso questo posto Mamma mia Eh Ah Oh no Mi sono spaccato le gambe 154 volte Ah Dai Non ne posso più Oddio Ah no Game Over ok Pensavo fosse un altro prezzo di livello Game Over Ah si non c'è la livello bonus Si Ah la fatoria La fatoria La fatoria La fatoria Yeee Waaaa Io sicuro lo schifo anche Ah tutti i 16 diamanti Ah si è vero Aspetta Eh aspetta Se ne mancano Eh Uno Due Tre Facciamo Lo facciamo fuori onda Dai Eh Facciamo anche lo facciamo fuori onda Adesso teniamo tutti i diamanti E La cosa si appida Immagino Esatto Eh ci vediamo Tra un pochino Quando abbiamo posto tutti i diamanti Si A dopo Ciao Quanti diamanti hai trovato fino ad adesso Tutti Adesso si sta a prendere la porta infatti Eh vedo Guarda Quasi quasi Intanto mi sto Divertando C'è la porta E' un pochino E' un pochino Ah ci ha portato la porta Si è bello Eh Sono fatta Ragazzi E' un pochino No no Aspetta Sì Livello sperimentale C'abbiamo due Avevamo due Livello buono E livello difficile Facciamo così Dai Perché c'è una torta Che cazzo fa con la torta Torta Allora Vieni qua Torta Vieni qua Vieni qua Torta vieni qua Vieni qua Vieni qua Eh No Ha allargato la torta Oddio Dov'è Cos'è Oddio E' una super sariana Ah eccola lì No No Sparite È lì È lì È lì No 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 Ma cosa Sparisce No Vogliate che ci avviciniamo Sparisce Ah Vieni qua lì No Sparisce di nuovo Vieni te Sempre chiedi te Beh no Non ti ritrovo Vabbè Lasciamo stare Ah non possiamo più Tra l'assù Bella Merda C'è E non sto neanche scherzando Non puoi rompermi Sì ma Non li ottengo Eh E non toccami Ah Pensavo toccassi Quindi Dobbiamo fare il giro E tornare dall'altra parte Sempre che qualcosa tocchi Ah sì Tocca Perfetto Eh vabbè E truscevi però Per due signore Signore Ciao Almeno scoprite che Non barriamo mai Così si fa Quella Ma se ti lasciassimo Il livello sperimentale Quella torta lì E Il livello Bonus Per la prossima puntata Non potremmo farlo Lo sai Allora facciamolo Questo aspetterete Guarderete un altro video Perché siamo cattivi No perché Cattivi vostri Già meno non guardate video Di mezz'ora Perché altrimenti È un po' lungo Tu e vale Quindi Anche con questa puntata Di top Di rap Ciao 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 Vabbè Quindi Se questa puntata Mi piacciono Se anche questa puntata Vi piaciuta Mi piace Iscrivetevi E da Eh oh mai Ce l'abbiamo fatta Ciao ciao Sì Ciao ciao